benvenuti siamo tornati qua su un nuovo video perché siamo arrivati a quel momento di fare l'ultimo video di acquisti del mondo videoludico perché comunque c'è un po' di giochi da farmi mostrare e iniziamo partendo da un po' diciamo delle console e partiamo da Sea of Thieves che non ho mai provato in esclusiva per l'Xbox comunque molto probabilmente anche per PC è un gioco piratesco la gente che adesso è uscito diciamo l'espansione di Jack Sparrow e anche un po' l'ora di recuperare il tutto passiamo poi a Sniper Ghost Warrior Contracts 2 per PlayStation 4 che molto probabilmente troverete un proviamolo sul canale a breve lo dovrò trovare soltanto la voglia di di montarlo e caricare ma poi non so se vedete prima questo video o prima proviamolo ma comunque l'ho provato e non mi convince tanto poi ho cominciato a recuperare un po' di giochi della Switch perché ne sono usciti un po' e li voglio veramente ricoprire un pochino tutti perché se no perché sono alcuni sono molto carini e infatti li voglio andare a provare partiamo con Animal Crossing New Horizons che devi prepararti a iniziare una nuova avventura e una nuova vita su una isola paradisiaca grazie di aver scelto il pacchetto Isola Desert di Nokain che lasciati immergiti nella natura e come come più ti piace in un ambiente completamente nuovo e rigenerante costruisci una nuova vita dal nulla eccetera eccetera e ho visto che molte un po' di video su YouTube è abbastanza carino e lo voglio portare poi se volete la mia base come lo dite che ve lo dico poi c'è anche Miitopia che vive la tua avventura i compagni decidi tu immagina di affrontare un epico viaggio con tua madre nei vestiti di una maga tuo fratella in quelli di un abile guerriero o un amico come duca del male quindi tu puoi costruire cioè fare i personaggi diciamo un po' di decidi tu e poi fai la varia storia anche questo lo devo provare e poi ditemi voi se lo volete due parole sempre a disposizione poi passiamo all'ultimo che è Mario Kart Deluxe 8 ok come non può mancare Mario gareggia senza limiti 48 circuiti di azione targate a Mario Kart e arrivano anche nuovi contenuti come c'è scritto sono tornate le battaglie nuovi percorsi più amati dei fan regole nuove di zecca e poi c'è anche poi si può giocare in locale fino a 8 giocatori giocare online fino a 12 giocatori e niente questi erano un po' diciamo i recuperoni di giugno poi ovviamente quegli altri giochi di Nintendo Switch li dovrò recuperare e niente ci vediamo a un prossimo appuntamento appuntamento